Mirta che riceve dei finanziamenti molto importanti di un milione e mezzo per il proprio e-commerce oppure Velasca anche loro che ricevono il secondo round relativo al finanziamento dell'e-commerce per poter scalare per appunto il loro e-commerce Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo video in cui parleremo di come vendere un e-commerce, un sito web quindi un business online al massimo veramente delle sue potenzialità e come valutarlo Innanzitutto dovete sapere qual è il massimo che possiamo ricavare per esempio dalla vendita di un e-commerce alla vendita per esempio di un sito web Nella sostanza non c'è un massimo ragazzi per esempio questo è un caso tipico che ci dimostra in maniera concreta che non c'è un massimo Questo sito qui è stato creato appunto da Michael Dubin e ha come scopo quello di fornire in abbonamento tutti gli strumenti che sono necessari per potersi radere Bene, è partito in piccolo e ha creato veramente un business enorme che è stato venduto per un miliardo avete capito bene un miliardo di dollari per esempio la società Unilever che per chi la conosce sa che è un conglomerato di marchi veramente grandissimo che è equivalente presentato alla Nestlé Ma questo è un caso veramente eclatante ma ci sono anche dei casi anche molto eclatanti molto interessanti per esempio a livello italiano per esempio di Mirta che riceve dei finanziamenti molto importanti di un milione e mezzo per il proprio e-commerce oppure Velasca anche loro che ricevono il secondo round relativo al finanziamento del loro e-commerce per poter scalare per appunto il loro e-commerce Ma questi sono per l'appunto esempi estremi esempi estremi di come, di dove si può arrivare se si crea proprio business in maniera appropriata Ma ad esempio se tu sei in una situazione minore di queste, ad esempio se tu stai partendo adesso ad esempio se hai per esempio il tuo piccolo e-commerce e decidi di venderlo perché vuoi per esempio fare una piccola exit e quindi mettere da parte un pochino di denaro per ripartire con altri business o decidi per esempio di letteralmente fare completamente cambio di vita la possibilità di poter vendere e vendere al massimo il proprio business è una cosa veramente molto importante Ma quanto viene valorizzato il proprio business? Lasciamo a parte le eccezioni come per esempio questa della Dollar Shave Club che comunque i moltiplicatori sono stati veramente importanti in luce anche del fatto che c'era un sistema ad abbonamento quindi il sistema di revenue e il sistema di fatturato che era stato costruito era un sistema molto prevedibile e che era in continua crescita e questa è una situazione veramente delle migliori quindi mettiamo l'ipotesi invece che tu sia un semplice e-commerce che faccia delle singole vendite o alcune anche ripetitive c'è la possibilità di poter vendere il proprio business con un moltiplicatore della margini insomma ottenuto a livello annuale per uno, per un anno oppure per quattro anni nel caso in cui per esempio ci siano determinate condizioni gli investitori, chi va ad acquistare il tuo e-commerce, il tuo sito internet o il tuo business valuterà il tuo posizionamento SEO valuterà se sei per esempio il dominatore nella nicchia stessa che ripetitività degli acquisti ci sono come sono per esempio configurati i rapporti con il fornitore che è una cosa assolutamente molto importante quanto è grande il magazzino che rotazione c'è al magazzino il costo acquisizione cliente e questi sono essenzialmente dei parametri che vengono guardati insieme ovviamente a tanti altri ma è solo per darvi una piccola in farina se adesso siete nella situazione in cui per esempio state iniziando in una situazione in cui ad esempio avete il vostro e-commerce e volete capire come valorizzarlo prima di poterlo vendere vi do alcune dritte concrete che vi permettono di valorizzarlo nel moltiplicatore più alto la prima cosa fondamentale è quella di guardare la SEO cioè viene valorizzato un e-commerce che ha un posizionamento SEO molto importante con un certo storico di più rispetto a quell'e-commerce invece che vive di pubblicità questo perché la pubblicità può aumentare, può aumentare il costo e quindi riduce notevolmente i margini invece il posizionamento SEO dell'e-commerce si traduce in potenziali futuri margini letteralmente per chi va ad acquistare il business quindi se non l'avete fatto investite subito in ottimizzazione SEO prima di poter vendere il vostro e-commerce poi l'altra cosa è creare dei processi creare dei processi che permettano di automatizzare tutte le varie fasi della gestione del vostro e-commerce, sito internet oppure business questo perché chi investe, chi prende dei soldini, investe e compra il vostro business lo fa perché è un investitore per l'appunto non è che voglia trovarsi un nuovo lavoro ma si vuole trovare una struttura che può essere presa, già scalata in parte che con l'iniezione di liquidità, nuove liquidità può portare per esempio all'estero il proprio e-commerce lì può letteralmente ampliarlo e quindi portarlo ad un altro livello ad un altro livello per poterlo ma rivendere o per poterlo magari creare una società che poi verrà successivamente quotata questo per esempio nell'ipotesi migliore come per appunto Dollar Shave Club l'altro aspetto importantissimo è che si devono tenere in ordine in ordine le fppetti finanziari ho visto per esempio alcuni e-commerce, alcuni business su Amazon dove non si conosceva in maniera dettagliata quale fosse la marginalità quale fosse il costo di acquisizione del cliente ad esempio quale fosse per esempio il lifetime value del cliente è molto importante sapere quali sono questi dati qua perché nella fase della valutazione in primis del vostro e-commerce il vostro sito internet vi verranno richiesti oppure li dovremmo calcolare assieme ad esempio e nel momento in cui hai di fronte il tuo investitore che prima di ovviamente fare una valutazione concreta ti chiederà questi dati qua quindi è molto importante avere tutti i dati finanziari in ordine l'altro aspetto importante, l'ultimo aspetto secondo me molto importante prima di decidere di procedere eventualmente ad una valorizzazione quindi con la exit del vostro e-commerce o del vostro business online è quella di avere il traffico, il report del traffico i report del traffico in cui siete sono molto importanti capire da dove proviene il vostro traffico capire per esempio se ci sono dei miglioramenti che è una cosa molto importante perché ci sono dei miglioramenti del vostro posizionamento ossia dei miglioramenti ad esempio del costo di acquisizione del cliente attraverso le vostre pubblicità sono indicatori importanti per capire che è un sito che può essere ulteriormente spinto ulteriormente per quindi portato ad un altro livello per l'investitore che decide di investire ad esempio oppure per chi vuole ad esempio acquistare direttamente il business su Amazon l'ultimo aspetto importantissimo che spesso viene trascurato è l'aspetto della longevità cioè nel senso che il fatto che ci sia una certa base solida di clienti che è una ripetibilità di acquisto di clienti il fatto che ci sia una presenza degli anni del vostro e-commerce sono aspetti che valorizzano sempre di più il valore che potete ottenere nel momento in cui vedete il vostro business quindi l'aspetto molto importante da tenere in considerazione non pensate di costruire per esempio un piccolo e-commerce immediatamente e dopo nel giro di qualche mese di poterlo rivendere e fare un exit importante c'è la necessità che questo e-commerce insomma produca del fatturato produca dell'utile ottenga un certo posizionamento ottenga una certa frequenza ottenga quindi una certa ripetitività dei clienti solo quando avete effettivamente costruito un piccolo business avete la possibilità veramente di poter valorizzare anche questo business qua attraverso la vendita del business stesso naturalmente ragazzi mi rendo conto che questi elementi sono complessi ma se avete bisogno ad esempio di un aiuto nel capire come valorizzare il vostro business online noi di scuole e-commerce siamo qui basta che ci scriviate per appunto una mail infchioccia-scuole-commerce.com e abbiamo la possibilità di potervi seguire in tutte le varie eventuali fasi di vendita del vostro business online per questo video è tutto ci vediamo nei prossimi video ciao 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 Grazie per la visione!